Mila Mingardi è un partitone da parte tua, ma non è bastato per fare i buchi per terra qui a Pisa? No, assolutamente non è bastato, secondo il mio punto di vista è mancato molto il nostro atteggiamento, nel senso che abbiamo comunque fatto un bellissimo primo set, abbiamo preso tante sicurezze, ma nei punti determinanti siamo calate e loro sono state molto attenti a contrattaccare e a metterci in difficoltà. Devo dire che se si vuole vincere contro di loro da parte di tutte bisogna dare, in primis anche di me, bisogna dare molto molto di più, perché comunque sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte, non per questo comunque è arrivata davanti a noi nel campionato e quindi dobbiamo assolutamente dare veramente molto di più. Avete pochi giorni per preparare la gara 2, ma su cosa pensi che lavorerete? Pochi giorni per preparare la gara 2, ma le cose fondamentali da migliorare secondo me sono veramente due, nel senso che bisogna spingere molto di più servizio, perché il loro punto di forza è il gioco con i centri, che stasera infatti si è visto che ci hanno fatto molto male, quindi sicuramente cercare di aumentare il servizio per cercare un po' di staccare la palla da rete e sicuramente muro difesa, nel senso che loro veramente sono state determinanti in questo fondamentale e noi molto spesso ci siamo fatte cogliere con qualche disattenzione.